L'U-Yoga è un'antichissima disciplina indiana, che ha la qualità e la capacità di armonizzare il materiale e lo spirituale, il corpo, la mente e l'anima. Il benessere che ci trasmette questa pratica alimenta in maniera completa e pura la nostra psiche e migliora la forma fisica. L'U-Yoga può avere un ruolo fondamentale durante e dopo la gravidanza, un periodo che modifica in modo profondo la vita di ogni donna. Il periodo di gestazione ha fasi molto differenti ed è soggetto a notevoli sbalzi di umore e variazioni anche significative nella percezione di se stesse. Inizialmente siamo entusiaste di questo meraviglioso dono a cui siamo state destinate, ma per molte di noi possono presentarsi fin dall'inizio alcuni malesseri fastidiosi, che non permettono di svolgere le nostre attività quotidiane con la solita efficienza. Per esempio, possiamo essere soggetti a nausee molto forti, che ci accompagnano per tutta la giornata, oppure a stanchezza, e ad altri sintomi legati allo sviluppo del feto che cresce dentro di noi. Praticando Yoga sin dall'inizio, possiamo godere del beneficio che questa pratica ha su di noi. Imparando a respirare e a eseguire determinati esercizi, possiamo alleviare molti disturbi. Non dimenticate di consultare il vostro medico per un consiglio, prima di iniziare a impegnarvi in questa pratica. Easy Baby. Bambini si nasce, genitori si diventa. Canale 137 di Sky.